C'è una cosa divertente della quale vorrei subito far parlare a Antonio, ma noi abbiamo sentito in tutti gli ultimi mesi Juncker che, insomma, lotte, questo insomma nei momenti di lucidità... Contro i sovranisti, questi marti... Sì, e adesso, scusami, ma adesso ha detto che sì, ci siamo stati forse un po' troppo duri con la Grecia, con gli altri... Con l'austerity... Con l'austerity, ma l'ha detto in un momento di... Chissà perché l'ha detto. Beh, non lo so... Guardate, le battute si spregano. Io voglio essere un pochino divertente. Cosa c'è di vero in tutto questo? Secondo me ha iniziato a leggere scenari economici e allora si è reso conto di tutte le cose sbagliate che hanno fatto, perché sono cose che diciamo da anni e anni e anni. Adesso fanno il mio colpa sulla Grecia, però vorrei chiedere al signor Juncker come la mettiamo col fatto che in Grecia si sono ridotti in ginocchio, come la mettiamo che non hanno più i servizi basilari, ad esempio dalla senità pubblica, che gente che non riesce a curarsi, quante aziende hanno chiuso, è stato praticamente un paese massacrato, chi è che risarcisce adesso? E fra l'altro vorrei ricordare che il Fondo Monetario, il Fondo Monetario, non sto parlando del sovranista italiano, del Partito Populista Italiano, ma il Fondo Monetario Internazionale, per voce del capo economista Bronchard, il giorno che se n'è andato in pensione, ha detto noi abbiamo fatto enormi errori sulla Grecia, quindi questi quando praticamente vanno via e Juncker sta andando via, evidentemente hanno dei rigurgiti di coscienza praticamente, solo che mi dispiace, adesso ci sono le elezioni europee, io adesso non so, lui non credo certo che è miri a essere rieletto, perché credo che questa è la peggiore commissione europea da quando esiste l'Unione Europea, però insomma un minimo di vergogna, perché insomma gli è stato detto in tutti i modi, in tutte le salse, quindi evidentemente... È una confessione alla fine, è una confessione, cioè tu ammetti di aver commesso quel reato. Ecco, quindi vuol dire che anche tutta la politica di austerity, non solo nei confronti della Grecia, ma quello che è stato fatto, ad esempio a iniziare in maniera piuttosto evidente, paghiamo ancora le conseguenze al governo Monti, insomma anche quello è da revisionare, aspettiamo qualcuno che inizia a dire sì, effettivamente abbiamo sbagliato, però chi è che ha pagato il conto? Non certo loro, l'abbiamo pagato noi e lo pagheremo ancora noi. Certo, quindi Juncker crede che sia soltanto una mossa politica? Ma io credo questo, io credo che questi signori sono completamente scollegati dalla realtà, sono in questi grandi uffici come delle torri d'Avorio, molto probabilmente Juncker sono anni e anni che non scende per strada e non va a prendere il caffè in un bar, altrimenti se ne sarebbe accorto, ovvero l'avrebbe detto molto prima. Vivono veramente sulle nuvole, peccato che poi chi è che paga le conseguenze siamo noi. Ecco, però vedi Antonio, io volevo proprio farti una domanda, te sei un economista, ormai hai una certa esperienza, e tutto, cioè il fatto che accada questo, cioè che ci siano queste grandi organizzazioni economiche globali, a noi ce l'hanno fatto passare, voglio dire noi, perché io negli anni 80-90 avevo 20-30 anni, e quindi sai quando sei giovane senti grandi professoroni che ti dicono queste cose, ci credi, no? Perché non hai la preparazione, poi il tempo, l'esperienza, ti abitua un po' a capire la realtà delle cose. Quindi noi tutti pensavamo, come molti giovani oggi, che l'unione dell'Europa, questa grande cosa che tutti insieme ci riuniamo, siamo tutti più forti, facciamo questa cosa gigante, eccetera. Poi abbiamo visto che è un fallimento colossale, che porta anche a delle aberrazioni, come questa gente collegata dalla realtà. Il fatto che ci siano due parlamenti europei, che uno spende un miliardo e mezzo l'anno solamente per prendere le valigie, andare a fare due o tre riunioni a Strasburgo, poi te ne torni a Bruxelles solamente perché... Perché è Francia, perché se non è Francia, allora anche la Francia doveva avere. Esatto. Il problema è che questa cosa non possa essere messa in discussione. Esatto, poi dopo arriva la Grecia o l'Italia, alcuni problemi che ha, e tu spendi un miliardo, due miliardi, solo per passeggiare con le valigie. Non è per fare qualcosa di costruttivo. È una follia. Quel denaro poteva essere dato ai poveri, veramente. Cioè, ecco, questi mostri, si creano questi mostri. Ma allora la domanda è, ma l'economia, l'economia di scala, cioè è meglio l'economia federale, diciamo, federata? Cioè, ognuno ha una sua piccola economia che poi fa i conti con le altre, oppure un'economia globale come questa? La prima domanda. La seconda, se è vero che un'economia globale può essere migliore, ma allora le persone che la governano non possono essere scelte così leggermente? Ecco, anche qui è una bella domanda. Lo so che la domanda è... Ma il problema va, diciamo, inteso in questo modo. L'Unione Europea e le sue istituzioni di fatto sono governate non certo con un principio di democrazia, perché il Parlamento Europeo è vero che è eletto con soffraggio universale, cioè lo votiamo noi, però è l'unico Parlamento... Non sappiamo cosa votiamo. No, è l'unico Parlamento al mondo che non ha potere legislativo. Cioè, tutti i Parlamenti sono proprio Parlamenti perché votano le leggi, no? È chiaro. E quella è la funzione. Il Parlamento Europeo, no. Non vota nessuna legge. Quindi è un paravento, una sorta così di... E che fa allora? Qual è l'opera? È un'opera molto anacquata, è estremamente anacquata. Una cosa in particolare. Anacquata, discussioni, parlano, fanno, è per dare praticamente una sorta di ufficialità democratica a questa Unione Europea. Di fatto, chi è che prende le decisioni? È la Commissione. È la Commissione, che è espressione di fatto dei governi. Cioè, i governi si mettono d'accordo fra di loro, fra di loro, attenzione, ogni Paese membro praticamente designa un commissario, i commissari sono 28, adesso saranno 27, con l'Inghilterra fuori, e sia la Malta che la Germania esperivano uno. Ecco, poi dopo, e questo avviene solo dall'ultima legislatura, il Parlamento Europeo solo formalmente dà la fiducia, ma di fatto è scontata. Bene, non devono fare altro che, diciamo, certificare un qualche cosa deciso altrove. e la Commissione Europea di fatto è un po' il governo, allora, se vogliamo dare una collocazione, no? Istituzionale. La Commissione Europea di fatto è il governo. Poi ci sono anche altre istituzioni, come il Consiglio d'Europa, che ognuno fa la sua parte. Però, se pensiamo che questa Commissione Europea è espressione dei due gruppi parlamentari, uno il PPE, cioè il Partito Popolare Europeo, e il PSI, il Partito Socialista, dove rispettivamente fanno parte Forza Italia e il Partito Democratico. Quindi è espressione di quel tipo di maggioranza. Dubito che questa maggioranza continua a esserci dopo il 26 maggio, cioè data dell'elezione europea. Ci saranno altre, possiamo dire, maggioranze, ci saranno sicuramente... Il quadro cambia. Cambierà sicuramente. Vediamo che cosa esce fuori. Anzi, io mi auguro fortemente che abbiano successo le forze politiche diverse da quelle che fino adesso hanno di fatto governato l'Europa, perché abbiamo visto i risultati, e che soprattutto l'Italia possa esprimere un commissario europeo di peso. Non certo, scusatemi per carità, la Mogherini che mi sembra che nel ruolo della Commissione Europea è estremamente diciamo così marginale. A parte che non so se è un bene, ma insomma non si sente molto nella sua azione, mentre invece... Chi sceglie il paese o qualcun altro sceglie il rappresentante di ogni nazione? è il frutto diciamo di equilibri. È chiaro che l'Italia può esprimere un commissario europeo, però vediamo che mentre i francesi esprimono commissari europei di peso, i tedeschi esprimono commissari europei di peso, addirittura il Lussemburgo ha la capacità, forse proprio perché è il Lussemburgo e quindi trova la sintesi di esprimere addirittura il Presidente della Commissione, ma d'altronde abbiamo visto che il Vice Presidente di Juncker e questo Dombrovski che ricordo sempre non è un calciatore, ma è il leader di un partito che ormai è il 6% dei voti dei propri cittadini della... Estonia? No, della Lituania. Della Lituania. Insomma, pensate, Vice Presidente della Commissione europea, cioè il Vice Juncker, va bene? Cioè un qualsiasi sindaco italiano prende più voti? Non di lui, del partito di cui è il leader, quindi è proprio la idea. Allora, io dico, stavolta per cortesia cerchiamo di mandare un commissario europeo che sia all'altezza della situazione, però in un posto chiave, almeno, almeno un posto chiave. Ecco, perché poi sennò si generano questi mostri, cioè queste configurazioni che hanno una forza, però, perché poi ci impongono regole, leggi, danari che ci tolgono. E' anche vero che in precedenti commissioni noi abbiamo addirittura mandato il Presidente della Commissione europea, Romano Prodi, ma molto probabilmente adesso abbiamo capito il motivo per il quale è andato bene a tutti quanti, perché insomma non è che abbia fatto fino in fondo gli interessi del Paese, questa volta dobbiamo mandare una persona che faccia veramente gli interessi questo Paese esattamente, ma io penso che di gente valida in Italia ce n'è, è fuori di ogni dubbio. Ovviamente escludiamo i presenti dal giudizio, però ce ne sono, la domanda è escludendo i presenti. In Italia ce ne sono, ce ne sono sempre stati. Per esempio Draghi potrebbe passare da una parte all'altra? Ma io non so, non posso, diciamo, dare nessun tipo di giudizio, perché sono un semplicissimo cittadino italiano, non sono un politico, quindi non sa me prendere decisioni. Da cittadino. Ma credo che Draghi abbia già fatto il suo corso e credo che le sue aspirazioni non siano quelle di andare a fare il commissario europeo, penso che le sue aspirazioni siano quelle di tornare in Italia magari con qualche altro tipo di ruolo, ecco. Ma penso che la maggioranza che è attuale italiana possa esprimere qualche persona di altissimo livello che vada finalmente a, non so, mi piacerebbe, non so, il posto di Moscovici o il posto, non so, di Ottinger. Ecco, di peso, non deve essere appannaggio solo degli altri paesi di Vorgermania e Francia, ci siamo anche noi, insomma.